Buongiorno amici e amiche, il momento è difficile, ma voglio farvi arrivare il mio affetto e il mio abbraccio e quello di tutta la famiglia Santa Barbara. La vita è bella ed oggi ancora di più dobbiamo amarla e apprezzarla e rispettarla, e rispettarla con serenità e allegria. E viva la vita, bevete e solidete. Buona patto a tutti.